Appuntamento con la festa del volontariato a Urbino con tutta una serie di iniziative nel centro storico fra Piazza della Repubblica e il cortile del Collegio Raffaello. Fra le varie iniziative una esercitazione del gruppo della Croce Rossa, i volontari del soccorso, un'esercitazione che si è svolta in Piazza della Repubblica e ha attirato l'attenzione degli urbinati presenti ma anche dei tanti turisti di passaggio, quest'oggi in città. Infatti è stato simulato un incidente e un intervento, una simulazione del tutto realistica con gente che si è fermata, preoccupata. In realtà era stata avvisata tutta la gente presente con un autoparlante che da quel momento in avanti si sarebbe svolta una esercitazione ma non tutti hanno colto e quindi poi hanno seguito con grande attenzione, forse anche dei momenti di apprensione, quello che si svolgeva. Un motociclista che giungeva e poi aveva un incidente fra Corso Garibaldi e Piazza della Repubblica, una persona fintamente coinvolta, truccata, con delle tracce di sangue, che si lamentava e il motociclista che finiva per terra. A quel punto interveniva l'ambulanza e i volontari del soccorso che mettevano in scena tutto quello che avviene in condizioni di quel tipo, mostrando la loro competenza, mostrando le attrezzature e facendo vedere quali sono le metodiche di intervento in questo caso. Quindi primaria assistenza al motociclista infortunato che veniva immobilizzato, con grande attenzione intervenivano gli operatori per rimuovere il casco e poi dopo una stabilizzazione il passaggio sulla barella. Intanto l'assistenza anche psicologica, non solo medica, all'altra persona coinvolta, che aveva queste tracce di sangue sul volto, era ovviamente un trucco, e che si lamentava, lamentava quello che era accaduto e quanto il motociclista fosse stato poco accorto. Questa scena ha portato gente in piazza, che ha seguito chi con un sorriso per sottolineare quanto fossero bravi questi attori, chi invece con sguardo preoccupato, quelli che erano arrivati dopo che c'era stato l'annuncio e dell'esercitazione, che quindi non avevano compreso fino a che punto fosse realtà e fino a che punto fosse finzione. Comunque tutto si è svolto nel migliore dei modi, con l'assistenza che è stata garantita alle due persone coinvolte, quindi ai due attori, attrezzature impiegate e poi trasferimento della persona coinvolta sulla barella e poi in ambulanza. Stessa cosa è avvenuta per l'altra persona che veniva coinvolta, che è stata seguita, assistita e poi l'esercitazione si è conclusa fra gli applausi delle persone presenti. Dunque questo è quanto accaduto nella mattinata.